La sezione versiliese di articolo 1 ha indetto una riunione aperta a tutti i rappresentanti dell'area progressista della zona e alle associazioni sindacali di volontariato e civiche. Tema cardine della discussione, le previsioni di impiego dei fondi del PNRR, il piano di ripartenza e resilienza. Il convegno è stato introdotto dal segretario Marco Corsetti, moderato dal responsabile degli enti locali Fabrizio Manfredi e ha visto gli interventi del segretario regionale di articolo 1 Simone Bartoli e dell'assessore regionale a Welfar Serena Spinelli. Rispetto al PNRR dovremmo usare le risorse non solo per come sono destinate, cioè in tema di investimenti, che è la caratteristica proprio del piano nazionale di ripresa e resilienza. Dovremmo usare queste risorse sì per fare gli investimenti ma anche per andare ad intervenire su quelle che sono le criticità del nostro sistema, che è un sistema sociosanitario di grande eccellenza, che però ha degli elementi di criticità su cui lavorare, soprattutto sulla presa in carico delle maggiori fragilità, delle cronicità. Il piano nazionale di ripresa e resilienza deve consentirci di determinare questo passo in avanti, questo cambiamento. Accanto alla tematica legata al PNRR, la riunione ha voluto anche rappresentare l'inizio di un percorso per ricompattare le forze di centro-sinistra versilesi, ma non solo, intorno alle principali tematiche legate al lavoro e sanità. Per quanto riguarda la sinistra, credo che sarebbe molto importante rimettere insieme tutti coloro che intorno ad alcune questioni fondamentali, le cito rapidamente il diritto del lavoro, la dignità dei lavoratori, che il sistema sociosanitario rimanga e sia davvero un'infrastruttura pubblica universalistica, gli investimenti sulla scuola, sulla formazione e questi temi centrali ritornassero al centro di un dibattito, soprattutto di un punto di vista chiaro e concreto che credo che la sinistra debba avere in questi anni e per i prossimi.